Gli intervalli e le viste, sono queste le traduzioni dei termini ranges and views, mirano a migliorare, potenziare e a rendere più leggibile e anche più sicuro il codice che andremo a scrivere usando la STL, tant'è che non raramente si sente riferire a queste nuove feature come alla STL 2.0. E se il termine STL non dice nulla, significa che che state utilizzando al momento C++ ha meno della metà, secondo me, delle sue potenzialità e avere quindi un minimo di conoscenza, almeno, dell'STL, cosa sia un vector, come utilizzare, che cosa sia un iterator, begin, end e applicare questi concetti con gli algoritmi generici di copia, trasformazione, ordinamento, almeno a livello minimale, direi che è un prerequisito per poter capire l'importanza di queste nuove feature. Ne siete a secco? Magari seguite comunque il video perché si può comunque comprendere quello che vi state perdendo soprattutto. Poi sappiate che c'è una playlist, una buona introduzione, anzi più di una playlist, sulla STL sul mio canale, guardatevi la mappa, quella per argomenti. Codice più sicuro, dicevo, e più comprensibile perché incorporano chiave in mano anche il meccanismo dei concept che abbiamo già discusso in precedenza. E l'area che ne beneficia è niente po' di meno che la STL, la standard library, quindi una cosa grossa. Talmente grossa che non tutto quello che è messo a disposizione dall'alberia Randis V3 di Boost, spesso gli ampliamenti dello standard traggono origine da Boost, lo sappiamo, e qui ne facciamo eccezioni. Al punto che l'implementazione completa è anche stabile, qualche specifica potrebbe cambiare ovviamente, non la vedremo minimo fino alla versione 23 e forse non sarà sufficiente neppure quella. Ecco perché penso che non convenga spingere a paletta a meno di vedere grossi benefici per i progetti su questi aspetti. I comuni mortali, mi ci metto anch'io, conviene che si prendano qualche mesetto in più per assimilare con tranquillità queste parti. Prepariamo come al solito il progetto andando a impostare supporto per il C++20, le ultimissime latest feature. Come mi ritrovo sempre a dire poi ogni IDE avrà il suo posticino per andare a impostare l'opzione latest. Oppure, come ho mostrato in primissimi video, utilizzate qualche IDE online. Parto con qualche esempio che mira a mostrare i punti deboli dell'approccio della, tra virgolette, vecchia STL e quello nuovo degli intervalli. Anche se gironzolando per internet, ho visto che poi gli esempi sono sempre un po' quelli rimpallati qua e là, diciamo che mi sento, almeno per questa prima parte, attribuire i credits a questo sito. Useremo i Vector e Algorithm. Consentitemi di alleggere un po' il codice aprendo il namespace STD. E vediamo come, senza usare i ranges e le views, possiamo ottenere da questo Vector iniziale di numeri pari e dispari, un Vector Risultato, che è qua sotto, numeri pari e raddoppiati. Cioè, prima filtrare da questo elenco soltanto i numeri pari, poi usarli per generare un Vector con gli stessi valori ma raddoppiati. Qui la stampa. Perciò, da questo Vector otteniamo questo Vector. Il 2 raddoppiato, il 4 raddoppiato e il 6 raddoppiato. Semplice da capire e da gestire. E a chi non conosce la STL, chiedo di non valutare la sua potenza da questo semplice esempietto. C'è ben di più. E questo è solo funzionale a capire la transizione verso i ranges e le views. La STL mette a disposizione tutta una serie di container, come il Vector. È un concetto pervasivo, che è quello di iteratore, che permette, come suggerisce il nome, di visitare da un punto di inizio a un punto di fine. Lo otteniamo qua sul Vector numeri con BeginNumeri, vuol dire dal primo elemento del container numeri, che potrebbe essere un Vector, ma anche qualunque altro container. È il punto di forza della genericità dell'STL. E di fermarsi, almeno in questo caso, sull'ultimo elemento, fino all'ultimo elemento, EndNumeri. Il significato di inizio-fine e di spostarsi in avanti di una posizione o indietro cambia internamente da container a container, ma l'utilizzo che ne facciamo è generico. Il nostro codice andrà bene praticamente per qualunque tipo di container che supporti poi le operazioni richieste, intendiamoci. Nel primo step, ed è importante capire che sono necessari due step, non è infatti possibile prendere l'output di questo primo copy if e usarlo come input in modo diretto, trasparente, per il transform qui sotto. Vincolo che poi sparirà con i ranges. E abbiamo bisogno di questo contenitore intermedio per un risultato intermedio. I numeri pari presi tra tutti quelli che troviamo nel Vector e li vogliamo copiare, è questo che fa l'algoritmo copy if, è solo se qual'elemento soddisfa un predicato, l'essere pari. L'operazione da compiere in quel caso è questa, sfruttare l'algoritmo backinserter, che va ad aggiungere come ultimo elemento in un container, l'elemento che rispetta il predicato. In pratica partiamo con questo Vector che è vuoto, ogni volta che si trova un elemento tra begin e end che rispetta questo predicato espresso con una lambda, questo è il simbolo della lambda, una funzione anonima che riceverà un valore intero, quello che il copy if fornirà iterando tra begin e end. E il valore restituito dal predicato è questo, n è pari. Se sì, il backinserter andrà ad aggiungere quel numero nel vector numeri pari. Il secondo step è prendere il risultato intermedio numeri pari, usarlo come input per un altro algoritmo, questo transform, che come il copy if itera su tutti gli elementi, da begin a end di numeri pari, e inserisce nel risultato finale, i numeri pari raddoppiati, una trasformazione di ogni elemento definita dalla lambda, che sarà invocata un dopo l'altro sui numeri pari, e li raddoppierà, e quel valore raddoppiato sarà inserito nel vector finale. Beh, poi la stampa con range for, che ci fa capire che il concetto era comunque lì, no? Da un bel po' di tempo, dal C++11 che abbiamo a disposizione il range for. E' qui che vediamo la comodità di un range, e come in tutta l'STL, anche per cose molto più complesse, dobbiamo stare lì a specificare tutte le volte il punto di inizio e il punto di fine, ma non so se è il più, ma parecchie volte, la scelta forse è standard, è voler elaborarli tutti gli elementi di un container, e infatti range for ce lo consente, dice per ogni n in questo container. Poi in effetti c'è il concetto di range, non ti devo dire per forza inizio e fine, in più vorrei poter adottare uno stile un po' più funzionale, cioè se devo applicare prima un'operazione e sul risultato di quella un'altra operazione, se potessimo utilizzare delle funzioni, scriveremo una cosa di questo tipo, no? Fai l'operazione 2 sul risultato dell'operazione 1 comandata su un certo vector. I range risolvono entrambe queste questioni. E prima direi che ci sta tutto un ringraziamento, eh, ogni tanto ci dimentichiamo, anzi troppo spesso dimentichiamo di citare gli autori di questi miglioramenti, che fanno una proposta iniziale. La libreria originale è da attribuire a Eric Niebler. Con i range tutti gli algoritmi, invece di aspettarsi un begin-end, si aspettano un iterator che incapsula al suo interno il begin-end, e che non deve fare necessariamente riferimento a un container fisico. Può anche essere una vista logica mappata su un altro container fisico oppure un'altra vista a sua volta. Ovvio che tutti i container attuali sono automaticamente considerati dei range. Ok, ok, facci vedere come diventa con i ranges. Wow! E più trasformazioni step intermedi dovessi introdurre, maggior diventerebbe, ma è già così, è palese, il vantaggio di questi benedetti intervalli. E c'è un di più che ancora non si vede che vi spiego tra pochi secondi. Gli step separati, con necessità di contenitori intermedi da allocare, ovviamente, sparisce lasciando il passo a questo operatore, pipe, che veicola l'idea che questo input viene trasferito a questo step e i risultati di questo step, notate un altro pipe, trasferito al secondo step. Si parte dal container originale con tutti i numeri, si genera una cosiddetta vista, view, attenzione che se fate riferimento al Fluent C++ lì l'articolo non è recentissimo e trovereste questo, ma poi questo è stato deprecato come namespace in favore di questo. Applicando questo adattatore, filter, che in sostanza genera uno smart iterator che non fa passare tutti gli elementi, ma permetterà di iterare soltanto su quelli che soddisfano il predicato, cioè essere un numero pari. Si genera così una vista che potremmo anche vedere come un range, un intervallo leggero, nel senso che che non è l'owner, non detiene davvero la proprietà degli oggetti, i numeri, che rimangono al vector, e definiscono una specie di range virtuale sul quale continuare poi ad elaborare. Questo range viene dato quindi in pasto come input all'ultimo step, dove si completa l'operazione, generando una vista sugli elementi trasformati. Conciso ed elegante, non so cos'altro dire. Notevole. Dicevo, c'è un bonus nascosto. Io qui avevo cominciato con uno step più contenuto, poi mi sono lanciato. Ma se avessi aspettato a stampare, generando proprio come nel codice standard, un risultato memorizzato, qua però devo aggiungere lo step che raddoppia, avrei ottenuto gratis un altro grosso beneficio, la laziness. Cioè, io sto definendo le operazioni che dovranno essere effettuate, ma che saranno lasciate in sospeso finché un qualcosa davvero non vada richiedere uno degli elementi che devono essere trasformati. Cioè, lo dico in altre parole, finché non stampo, questa elaborazione non va a pesare sulle performance del programma. Lazy evaluation. L'operazione è fatta solo quando serve, anche se l'ho definita. Quando te lo chiederò e andrò a iterare con un ciclo for così che utilizza questo numero di pari raddoppiati, solo in questo momento saranno effettuate le operazioni richieste. Solo in questo momento andrò a pagare il prezzo computazionale. Non male. Ma sarà davvero così? Evidenziamolo. Ho aggiunto qui un C-out. Se è vero il discorso la laziness, disabilitando ciclo for non dovrò vedere comparire nessuna stampa. e in effetti contro prova eccoli qua i punti esclamativi. Va bene, può bastare come introduzione, poi è un attimo andare sulla documentazione a vedere tutti gli adattatori che esistono e tutti gli elementi che hanno a che fare con i range. Ma gran parte della ricchezza di questi meccanismi deriva proprio dalla completezza, dalla disponibilità del maggior numero possibile di adattatori. Mi aspetto che nelle prossime versioni del C++ ne sono aggiunti davvero un fracco. A risentirci.